Mariani, quindi l'appuntamento è sicuramente per la seggiovia dei Prati di Tivo, per la funivia, visto che oggi c'è stata una grandissima e partecipata commissione regionale. Sì, oggi c'è stata la commissione vigilanza dove io ho chiesto di audire vari soggetti per cercare di risolvere la questione che sta preoccupando notevolmente tutto il nostro territorio, ovvero audire la regione Abruzzo nella persona dell'assessore Emanuele Imprudente e dell'assessore De Annuntis e di audire la provincia nella persona del presidente della provincia di Buonaventura. Allora, a parte la regione Abruzzo che era assente, a parte la provincia di Teramo che era assente, chi era presente? Presenti c'erano il presidente dell'ASBUC, il commissario liquidatore, il concessionario Finori, il sindaco di Pietra Camela, penso di non aver dimenticato nessuno, però quello che naturalmente va sottolineato e che appare veramente indignitoso e vergognoso è la grande assenza della regione Abruzzo che non solo non si è presentata nella figura degli assessori, non ha mandato né funzionari né dirigenti e non hanno giustificato l'assenza. Questo è quello che va ribadito, non hanno giustificato l'assenza, lasciando praticamente alla propria sorte un territorio importante come quello di Prati di Tivo. dopo che si sono riempiti la bocca per mesi, per anni, dicendo che avevano una soluzione nel cassetto, non riescono a risolvere una piccola scaramuccia, una piccola questione di quartiere.